Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live di Minecraft Randomizer Ciao ragazzi, ma salve, come state, come va? Ma quante belle emot che vedo in chat ragazzi, mamma mia che belle, tutte ste emot animate Vedo che da quando le ho messe questa novità vi ho un po' incuriosito, le state usando un po' di più E io vi ricordo, usate le emot il più possibile, che sono belle, e che mi sono costate un patrimonio tutte ste emot Non le ultime, che sono versioni modificate di quelle che già c'erano, però quelle prima, insomma, abbastanza Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto? Eh, vabbè, ecco, ho già letto, male, bene, perché male? Perché bene non si usa dire effettivamente, ma perché male? Vi faccio vedere una cosa prima di cambiarla Vi ricordate che vi ho fatto vedere i nuovi led qua? Non si nota molto bene nello schermo, però facendoli vedere a Karen Ho trovato questa combo di colori particolari Cioè una sfumatura di giallo Che va nel blu, nel rosso, è fico Sembra che tipo ogni quadrato abbia una sua sfumatura Però adesso la toglieremo, perché Alexa Led rossi Ah, che bella questa cosa, che bella la domotica, mamma mia Devo capire se esiste un modo di collegare a Twitch La domotica dello studio Cioè immaginate se tramite, che ne so Beats Punti canale Voi potete decidere Il led di sfondo dello studio Cioè cambiate il colore dietro Sarebbe, sarebbe fico Chissà se Se esiste un modo Che non sia tipo che poi la notte mi accendete i led Io non lo so Una cosa un po', diciamo Che si può spegnere e accendere Quando vuoi Sono tornato fuso da lavoro Ecco Altre buone notizie Prendo adesso una bella pausa Dalle cose di scuola Di scuola lavoro Bene, dai Ci sta una posetta Questa cosa che cambia colore Si può sintonizzare anche con i film Allora Guarda, ti rispondo subito Perché nell'app Adesso non vorrei Attivare cose Per sbaglio Ma grazie Beppe Per questa livello 2 E i 7 mesi Salve Come vuole il tempo Sono abbonato Fino all'anno In che senso Sei abbonato fino all'anno Hai anticipato la sub? No Io non capisco mai I messaggi Quando Sono così Però Nel caso Spiegami tu Io potrei mettere I led Che seguono Il ritmo musicale Di gioco Oppure C'è una funzione Chiamata Romantico Che Non so cosa faccio Hai fatto i 6 mesi No, hai fatto i 7 mesi Si I led Quelli che stanno dietro la televisione Ho capito cosa intendi Esistono Non sono questi qui Non so quali siano Quelli che si interfacciano con la tv Saranno molto più costosi Immagino E non so se mi fanno impazzire Cioè È bella l'idea Però Avere Cioè tu guardi la tv E avere dietro lo schermo Che spara flash a colore Con i led Non lo so se Cioè È figo da vedere così Un attimo Quello sicuramente È molto bello Però Nell'utilizzo quotidiano O vedendoti tutto un film Non è che dà fastidio Dopo un po' Io temo che potrebbe dare fastidio Sì Ho visto Dune Mi è piaciuto Un casino Ne avevamo già parlato Più volte Filmone Incredibile Straconsigliato Se amate Le grandi saghe Fantasy Fantascientifiche Spaziali Cioè se vi piace Il signore degli anelli Star Wars Queste cose così Guardatevelo Siamo lì Per Dune hanno speso Soli 190 milioni Eh Ma A pensarci Gran parte Cioè Buona parte Diciamo Delle scene Comunque Sono Nel Nel deserto Non c'è CGI O non Un granché Cioè ci sono molte cose In CGI Chiaramente Però Sì boh Ha senso Magari se pensiamo Appunto a uno Star Wars Dove ci sono Molte più situazioni Particolari Per forza di cose Devi spendere Non mi intendo Di budget Di film Quindi se tu Che dici Soli 190 milioni Che non so Poi quanti Potrebbero essere Dici Devo andare A lasciare La live Per andare A guardare Dune No Assolutamente Fa schifo Non guardatelo Non andate A vederlo A questo punto Piuttosto Andiamo A vedere La randomizer Ho i led Che si collegano Alla tv Ti posso dire Che la sera A luci spente Sembra che la tv Sia più grande Oltre all'effetto Fantastico Eh se non stanca Ci sta Dai Allora Mi spiace Interrompere Questa musichetta Che stava iniziando Ma Entriamo E Attivo Subito Twitch Spawn E vi vado Subito A spiegare In cosa consiste La serie Se siete qui Per la prima volta Velocemente La randomizer È una serie Dove tutto È randomizzato I drop Dei mob Dei blocchi Loot E Vabbè Ma che è Ma che è Manila Aspetta però Se io lo killo Posso ottenere Un Non posso Ottenere Un totem È vero Non posso Ottenere Il totem Perché il suo Drop è Randomizzato Quindi lui Non droppa Il totem Non so cosa Mi abbia Droppato Io stavo Per spiegarvi La serie E poi sono Io stesso Cascato Nella regola Base Della serie Tutto quanto È randomico I mob Hanno dei drop Randomizzati I blocchi Non droppano Se stessi Droppano cose Random Io vorrei andare A dormire Come faccio Se voi Rompete Le scatole Dov'è Ho sentito Un rumore Giù ragazzi Aspettate Che vado a vedere Scusate La brutalità Con cui sono uscito Però ho sentito Un macello E niente È Karen Che ha fatto cadere Una cosa È sempre Karen Che fa cadere Una cosa Nella fine Dei conti Torniamo dentro Riattiviamo Twitch spawn Subito Stavo dicendo Ogni Ogni volta Che inizio Stasera Non riesco mai A spiegarmi Per bene Succedono Ottomila cose Diverse Ogni cosa È randomizzata Quindi se spacco L'erba Non troppa L'erba Troppa Lo stone cutter Eh però Ma dai Ma allora No il mio cane No Neko È Neko quel cane Giusto Mi sa di sì Aspetta Ho un'idea Un piano Vieni di qui Entra Neko L'hai ucciso Ma GG Complimenti E grazie A Way to Maya Che mi hai fatto Ottenere del vetro arancione Allora Mamma mia Dormiamo Grazie Ferran Per la sabba regalata Witherstorm E Manila Prima che Aveva fatto I due mesi Manila Sono solo due mesi Davvero Pensavo che fossero Già di più Allora Possiamo Cominciare Spero ora Con calma E dire che Essendo tutto randomizzato Questo blocco Che mi ha dato Il buon Way to O la buon Way to Maya Non dropperà Del vetro Se rotto Ma droppa Niente Perché giustamente Vabbè Sì ci sta È vetro Forse non avrei dovuto Romperlo senza Siltach La buon Ok Ok Non so Ho sempre il dubbio Perché Maya è femminile Però magari è Maya come I Maya Non lo so Aiuto Grazie della precisazione E essendo tutto Randomizzato Noi dobbiamo Ingegnarci Per capire Come finire Il gioco Perché Ho accesso Molto veloce A cose Molto belle Ma non ho accesso A cose Molto utili Ad esempio Gli enderai Non so Come ottenerli Perché se uccido I blaze Non so cosa droppino Non li ho ancora incontrati Ma sicuramente Non dropperanno Le blaze rod Gli enderman Non droppano Le enderperle Ad esempio E questo è il tesoro Che ho già aperto Quindi non ci Serve questa cosa qui Viene da un'esplosione Quindi non ci serve Ehm Per rendere le cose Ancora più succolenti Ma quanti Quanti Basta Quante cose Ci sono in giro Non riesco mai A fare una presentazione Decente Di stasera Mi fermo Per rendere le cose Più succolenti Ecco la lista Degli eventi scatenabili E anche una serie Interattiva Con le sub Come avete visto Si possono sponare Oggetti o mob Ma c'è un evento Per ogni tipo di sub Prime Livello 1 Livello 2 Livello 3 E giftate di conseguenza Con le donazioni Con i beats È possibile Aiutarmi O d'ostacolarmi Seguendo un po' Quella lista Tipi Oggetti Boss Può succedere di tutto Sono 30 eventi Con un bel codice A colori Giallo random Rosso pericoloso Verde positivo Azzurro Sono le strutture E viola Sono le sub Non ho mai spiegato Tutti gli eventi Che ho messo In questa Serie Ma ad esempio Ho messo Il castello Della survival Come Come struttura Che spuona L'intero castello Della survival Che Non so Se fosse stata Una roba Tipo che la pietra Mi dava Qualcosa Tipo l'ender Perle Era una figata Cioè la pietra Del castello Intendo Ma vabbè Allora L'altra volta Siamo andati Nel nether E nel nether Siamo morti Tutto quello Che ho testato Non mi ha dato Grossi risultati A parte una cosa Gli strider Droppano Direttamente E Penso in modo Assicurato Il Come si chiama La testa Del wither skeleton E ora mi viene il dubbio È assicurato Quel drop Perché Io Ho ucciso Johnny No Johnny Calmo No Johnny Johnny Ti prego Lasciami stare No 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 Johnny Madonna Che angoscia Chi è stato Anna Maledizione Io non posso Spiegarmi In questa serie È impossibile Cosa Cosa droppavo Questo Bello Bello Allora Bisogna un attimo Di Uscire La pietra Beh la pietra Sappiamo Cosa droppa E si Dicevo Lo strider Mi ha droppato Una testa di Wither skeleton Che poi ho perso Morendo Che però Insieme alla soul sand Che ho trovato Potrebbe permetterci Di evocare il wither Uno dei due obiettivi L'altro obiettivo Un po' più complesso Perché per andare Nell'end E cercare L'ender dragon Da battere Ma soprattutto I titoli di coda Che certificano L'avvenuta Fine del gioco Abbiamo bisogno Di questa ender Perle della blaze rod Che non ho La più pallida idea Di dove trovare Quindi Ho pensato Che in questo episodio Faremo Una ricerca Per scoprire Tutti Cioè Più drop Possibili Il che vuol dire Che oltre magari Andare un po' in giro Killare mob Esplorare un pochetto Dobbiamo provare A spaccare Molte cose E se è possibile Craftare molte cose Da spaccare Io qui ho lo stone cutter Ho la crafting Quindi Possiamo fare robe E Su questa bacheca Mi sono invece segnato Tutte le varie combo Che per ora abbiamo Tipo lo slab di pietra Dà il loot Della Città antica E quindi Tra poco Spacchiamo tutte Quelle slab E diventiamo ricchi Le tartarughe Non droppano nulla Ma questo lo dici tu Questo lo dici tu Infatti dopo Se possibile Testeremo Un po' di tartarughe Perché ho il dubbio Che magari Droppino qualcosa Queste ceste Sono Un disastro Senza Senza fine C'è una roba Proprio inguardabile Ma noi facciamo così Dato che un po' di legno L'abbiamo Questo legno Viene dai silverfish Cioè Finita sta serie Se sta serie Dovesse durare troppo Quando finisco Sta serie Io Nesco Totalmente fuso Cioè Io inizierò a dire Ah ok Ho bisogno di legno Va bene Andiamo a cercare i silverfish No aspetta Come si trova il legno Cazzo è vero Gli alberi Cioè Inizierò a impazzire Perché sto Ragionando In modi Insoliti E inizio Già A guardare i blocchi Con Un'altra prospettiva Cioè Se io guardo la pietra Vedo il diamante Non vedo più la pietra Vedo il diamante La cobblestone Cos'è? Non l'ho ancora avuta La cobblestone Magari la cobblestone Droppa gli ender eye Non lo so Non Non posso metterci le mani Non esiste Possiamo in realtà Craftarla Cioè Crearla Con lave acqua Guarda che ci penso Interessante Questa cosa Va bene Detto questo Abbiamo Cose molto utili Qui Ma Per adesso Le mettiamo via L'unica cosa È appunto Facciamoci un secchio Ma porca puttana Ma che Mattio Mattio Ma dai Mamma mia Matteo Matteo Perché Perché sta cosa Perché Aiuto Mangia Aia Aia No non morire Dobbiamo portarlo via Non morire No No Corri Smettila di guiderarmi Smettila Fermi 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 Un attimo Caputtana Ho un'idea Lo voglio portare Dall'altro Weeder E vedere Che succede Se si colpiscono Questo deserto È diventata La landa Dei mattei Praticamente Merda Ma ce l'ho Proprio su Come potete vedere La sabbia Droppa Lapislazzoli Eccolo Ma lì C'è l'altro Mattio Pensavo fosse Sottoterra Invece È lì Che vaga Non so se è una buona idea Quella che sto facendo Monstar Grazie per gli undici mesi Perdonami se Devo fare Cos'è un uovo di slime? Non è stata una buona idea Per niente proprio Vi prego Aggratevi Ok Sono consapevole di aver fatto una cazzata Probabilmente No 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 la pausa Non posso muovermi E vabbè E vabbè Niente Sono stato anche pausato Adesso ho tutte le mie robe Sono rimaste lì Grazie Matteo Grazie mille Luis Grazie per i 38 mesi Loro Non ricordo cosa ci dà No No le ceste No Ti prego Le ceste No le ceste sono salve Incredibilmente Com'è possibile Che siano salve? Perché io ho dei Ah i totemi erano le torce Giusto Lo scaffolding È da un botto che mi chiedo E' da un botto che mi chiedo cosa fa lo scaffolding Endstone Ok Interessante Calmi Calmi Perché la endstone ci darà Il rame Che adesso ci darà No No l'ho già fatto Sto giro Non so come Ma l'ho già fatto Sto giro Sì 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 No Niente Grazie Uni Per i 15 mesi Che inizio Bello Traumatico E Luis Grazie per No No Che cos'è Dai Ma porca Che cos'è Cosa è uscito È il vindicator invisibile Il merda di vindicator invisibile Ma ragazzi Ma io devo spiegarla live Devo introdurla almeno sta cosa Mamma mia Calmi Calmi Dopo ci rifacciamo tutto Ve lo giuro Ora io non so dove sia Eccolo Che bruttissima sta cosa Aiuto Ho un'idea Ho un'idea Se io vado Se io entro Spammo Non ha funzionato Eeeh Vabbè poi E poi Che altro facciamo Pure i silverfish Fatemi legge un attimo Le donazioni Prima di responare Che tanto qua Sono Sono Bellamente nella merda Vediamo se stavolta Te lo distruggo Il villaggio No Matteo Il villaggio Per fortuna Non si è distrutto Eeeh Un po' Un po' Si gode Quello Chiudi la porta Forse Mi sa che il vindicator È rimasto chiuso dentro Godo Ho un'idea Per affrontare la situa Mamma mia Ecco vedete i silverfish Ormai io lo so Droppano il legno E noi ora facciamo così Apro Lui si avvicina a me Giusto? No Dov'è? L'ho preso L'ho colpito Eccolo Godo Godo Scusate Scusate Ci sono No Dai Madonna Mist Mamma mia Lo mando nel nether Mossa da pro L'ho esiliato nel nether L'ho esiliato Mi dispiace Adesso lo andiamo a prendere Ma intanto l'ho esiliato nel nether Così un attimo Posso Wow Ma se io No No Gli ho bannati questi Non posso usarli Vero Non posso usarli Ma che palle I totem Ottenuti dalle torce Per ora Sono bannati Perché era una cosa Troppo p Dammi un po' di cibo E andiamo Ad affrontare il bastardo Lo sento Ma non lo vedo ovviamente Neko Difendimi E' qua da qualche parte Non so dove sia Non so se il cane Lo vede Però Mi sa che Non so dove sia andato Si è perso Si è perso nel nether Bene Perfetto Ma Questo villager Ma che fai qui te Sei Sei pazzo Se mi fai morire Ti ammazzo Ah si Dove Dov'è il cane Dov'è il cane Che gli tira una bella Spadata subito No Non so dove sia finito Il cane A parte gli scherzi Eh miss Il tuo Il tuo vindicator Mi dispiace Tantissimo Guarda Ma si è perso Nel nether Quindi Adesso Nel nether C'è un vindicator Invisibile Armato Dasha Forse No forse L'ascia Non ce l'ha Perché è invisibile Quindi Chiaramente Non dovrebbe avere niente E che Non so neanche se Disponerà Quindi Potrebbe Tornare un giorno Questo vindicator Invisibile Ma io sto facendo Un ponte E lui mi butta Di sotto Comunque Non so dove sia finito Il cane Mi spiace Ah eccolo Il cane Io sento Suoni Vindicosi Ma dove Cazzo è Vai Neko Neko Uccidilo Ma che Palle Oh Ma questo Non so se l'avevo provato Lasciamolo qui Grazie Cash per i 31 mesi Mi servono a casa Che palle Non so se è qui fuori Non lo so Non capisco Ma no Ma basta Basta Mamma mia Vabbè ragazzi Ve la spiegherò dopo La live Cosa vi devo dire Pure 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 Johnny No No Johnny È il mio punto di spawn Io rispuno qui È il mio punto di spawn Non potete mettermeli in camera da letto Come faccio io A fare cose Come faccio Ma è una condanna a morte Sono chiuso dentro E si va di pugni Neko Fai qualcosa Vieni Ma non lo so Neko Godo Devo uscire Ferren Fa il bravo Pure te Donana Saba Creeper Che potrebbe aver evocato Un mob Non so che mob Si sia Si sia Sponato Ma Dov'è Boh Che mob Ah un endermite Interessante Droppa Una crack Deep slate bricks Ok Da provare Assolutamente Qua si è già provati Posso dormire C'è ancora quello di misti in giro Peraltro Io non so dove sia Non ne ho La più pallida idea E chi è che mi ha messo il Johnny Prima che non ho letto Matteo Certo Ovviamente Certo Certo Bene Questo è bannato Via Posso? Posso fare cose? Possiamo andare avanti? Mamma mia Che brutto villagio Tutto fatto così bene Allora Altre chest Ci piace essere ordinati qui Qua ormai Non c'è più Una parete Quindi facciamo un po' Un po' Muzzo Poi Diamanti Anzi no No Fermi Io L'altra volta Mi sono lasciato un regalino Ok Ho detto La prossima volta Iniziamo la live Certo Non ho fatto i conti Con Questi assassini Presenti in chat Però iniziamo la live Spaccando I mezzi blocchi Di pietra Che ho craftato I quali Contengono Il loot Della città antica Guardate qui Quindi ora Si gode un po' Certo Ho già l'inventario pieno Quindi Silence Che strano Vedere un silence Così faccio Una mila OP Quante Mila OP E mi sa Che anche queste Forse dovrei Un attimo Bannarle Perché Ma do Quante Ne stanno Uscendo Buonasera Flame Flame Regala una sub A Odin Blade Con un panda Che cosa Dropperà Un panda Non mi ricordo Se l'ho provato Il panda Quante Mila OP Ci sono Vabbè Pensavo di più Cinque No aspetta Otto Mila OP Ok Sono effettivamente Tante Le lascio Da Queste Non le Non le banno Ma le metto Via Il softbinding Però È buono Io Userei Ma in realtà Non è un Granché Questo loot Sapete Cioè Si poteva Fare anche Di meglio Flame Riptide Swift Looting Sono dei libri Mettiamo via Un po' Di robette E la città dell'antica Pare che ci siano Solo pantaloni È vero Le alghe Erano Decisamente Meglio Le alghe Sono clamorose Mending E efficienza Va bene Lo scal Che mi dà Esperienza Se voglio Cibo Facciamo così Questi mettiamo via Non so Quante cose Mi servirà Effettivamente Lo sky Sensor Cosa droppa Intanto Popping Text Grazie per i tre mesi Buonasera Che Ah Sei un villager Che culo In un villaggio È sponato un villager Giustamente Corde Uh Interessante Sapete perché Una cosa che avevo pensato A parte che L'arco Possiamo farci Una cosa che avevo pensato Era di provare la pesca Cosa uscirà Se peschiamo Non c'è La luttevol Della pesca Magari Peschiamo le enderpearl Non lo so Capito È da provare Allora Diamanti Diamanti Non ne ho poi Così tanti Dovrò Farmarne Di nuovo Comunque Ho avuto Paurissima Piccone Basta 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 Chi è? Cos'è? Che succede? Mist È mist Ma quindi La carota d'oro Avevi sbagliato la donazione Non è che volevi aiutarmi Era un errore Mamma mia Sì Un botto di robe Le abbandono Perché non so dove metterle Più che altro Sono interessanti i libri Ragazzi Capite che qua Cogliere tutto È un disastro Grazie Grazie La golden carbro Ce la mangiamo subito Allora Questo qui Ma grazie ancora Ma quante carote Mamma mia Ok Poi mi serve Pettorina Elmo Piedini Non ho diamante Ho finito il diamante Adesso Facciamo una cosa Andiamo all'oceano Peschiamo E con le alghe Raccolgo altre O diamante Facciamo così E mi faccio anche Le torce Tiè Che uso per illuminare Le torce droppano Il loot Delle evoker Vi ricordo questa cosa Noi le useremo Per fare luce Ok Ah ma ho fatto due Mamma mia Ragazzi Ho fatto due asce Che palle Ho fatto due asce Eh ragazzi Sono fulminato Qua Continuano distrazioni Cose Continuano a succedermi Cose strane Allora Pedini Secchio Prendiamo l'acqua Mi facciamo una bella canna da pesca I stecchini Li avevo appena presi Eccoli Ho preso uno di troppo È vero Rompere la stringa È un'idea Mica male Rompere la stringa Proviamo L'arco Per ora Non lo facciamo Corallo morto Solito Corallo morto Però ci sono diversi Coralli morti Quindi in realtà Non si sa mai Black concrete È un pilastro Bello Un pesce Come si facevano i strati di neve Quelli non li ho ancora provati Effettivamente Qua bisogna pensare tutto Ma dai Non droppa niente Che delusione Va bene Andiamo Dove sei Nico Dove sei Dove sei Devo puoi avere un cane Che si chiama Nico Santo cielo Ah devo uccidere il panda Odin Grazie Per il sacrificio Ma sai che Probabilmente L'avevo già fatto L'avevo già fatto Eh vabbè dai Cosa che succedono Su via Chi non Chi non è mai capitato Di uccidere un panda Parliamoci chiaramente Grazie Edward Per i 35 mesi Vediamo subito Cosa Otteniamo Stick Questi sono gli ingredienti Di una freccia Ma che loot Sarebbe I panda Meritano Distinguersi Ricordiamolo Per contestualizzare E non dissociarmi Credo sia una citazione A barba scura E a un video La Twitch La mia chat Non è seria Tranquillo Tranquillo Devo anche dormire Prima Visto Che memoria E lo so Perché me l'avevate Detto voi Ok Allora se non ricordo male Da questa parte C'era un oceano Quindi adesso andiamo Molti video Purtroppo Quindi Non è che non guardo I video altrui Per cattiveria Però Non so se avrei Il tempo Però se mi Mi avete raccontato Voi sta cheat Quindi ci sta Mi regalo In KTM 125 Ma guarda Manco se fossi Mio figlio Te lo regalerei Da me Prima c'era Il temporale Con i tuoni E le scalmane Le scalmane Cosa c'entra Questo Questo Non è un oceano Cioè Sì ma non ha le alghe Io ho visto Che c'era C'era un oceano Con alghe Coralli In zona No Presso di qua Vediamo Ok Là c'è Dell'acqua Sì Ok Vedo Il colore Chiaro Dell'acqua Quindi giusto E qui ci sono Anche le alghe Quindi top Easy Ma Sapete chi Non ho mai Killato E mi dà Da pensare Il pesce Tropicale Perché ci sono Svariati Pesci tropicali Io mi auguro Che abbiano Tutti lo stesso Loot Perché se no È la fine Tipo qua Ce ne sono Due tipi No tre tipi Cos'ha droppato Sandstone Sandstone Tu cosa droppi Sandstone Eeeh L'aria Ok Droppano tutti E beh è giusto Droppano tutti Il pesce pagliaccio Quindi Giustamente Letti Ah i cetrioli Li avevamo Già visti Ok Conigli Ma li ho più Uccisi i conigli Vabbè Nel dubbio Coniglietto In più In meno Stai fermo Dannato Che tu sia maledetto Sei buono Solo col caffè Mamma mia Come 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 danno fastidio Godo Godo Non ha droppato Niente Forse devo beccare Uno adulto Un cartello Calcite Come il saltello Del godo La TNT È vero La TNT Dava Che cos'era Il lutto del bastione Che lasceremo Che lasceremo qui Perché comunque Non ci serve Carota d'oro In mano Li attira Furbo Marcus Ne sei uno Più del diavolo Giusto Ok Adesso abbiamo ucciso La fauna locale Che abbiamo fatto I nostri test Peschiamo Proviamo la pesca E la magnetite Cosa do Ci sono i delfini Anche Potrei uccidere Un delfino Ah Forse l'ho anche Già vista Questa Fatemi riprovare Darà sempre Quello No E allora Va bene Quindi pescare Mi dà solamente Questo Che dà I pot Oh mio dio I pot Che dà Carne di coniglio E zampe di coniglio Coniglietto Vieni qui Guarda Guarda Ti ricordi Il tuo amico di prima Eccolo Niente Non ci serve Però Però i delfini Dovremmo Provare Sì Ovviamente Qualcos'altro Avrà la lootable Della pesca Però volevo Assicurarmi Che Ci fosse sempre Lo stesso Drop Perché era il delfino Ah c'è anche Questo stronzetto Qui è vero Non avvelenarmi Infested Ciseled Stonebricks È una farm Di legno Quindi Vedete Come ragione Ormai Io Uccido Un pesce palla Dico Cazzo Una farm Di legno Perché Perché se è il blocco Infestato Che mi droppa Significa Che quando Io lo spacco A meno A meno A meno che Non si è randomizzato Anche quella cosa Dovrebbe Sponare I silverfish Perché quello Non è il loot È lo È il mob Che sta dentro Non so se è randomizzato Come cosa Bisogna recuperarne Qualcun altro Mi sa Vabbè Comunque Se è così Con i silverfish Farmiamo il legno Vieni qui Eeeh Porca bestiaccia Che non sei altro Niente È già passato Invece Il delfino Dov'è? Che poi Io sono qui Per le alghe Principalmente Ricordiamoci L'obiettivo primario Delfino Vabbè Facciamoci Qualche minerale C'erano i diamanti Qui dentro Sì Godo Questa Pioggia Di Materiale Prezioso È tanta roba Diciamo che Nella scala Delle piogge Famose È meglio Dello champagne Sto guardando La chat Per vedere Se qualcuno Conosce Questa Città Ecco La conoscete No Allora Praticamente C'è questo Influencer TikToker Che Diciamo Una doccia Una doccia Umana Come dire E Quindi c'è questo Questa cheat Che gira È meglio Dello champagne Aspetta Ho appena Ho appena Realizzato Una cosa Se lui Se Ha detto Che è meglio Dello champagne Vuol dire Che Non C'è fatto In bocca No No Ha fatto Il sommelier No Ragazzi Non l'avevo Non l'avevo Realizzato Finora Che Sbocco Che merda Che Sbocco Dai Cambiamo Argomento Vomito Mi viene Lo sbocco Allora 16 diamante A posto Ci facciamo I piedini Non riesco A togliermelo Della testa Cazzo Che schifo Il Il blocco Infestato Oh Ragazzi E qui E qui Cambiano le cose Mi sono Distratto Ho la tua Attenzione Minecraft Il blocco Infestato Spone Silverfish Ma Il blocco Droppa Il diamante Eh no Questi silverfish Però Non ci servono Manila C'è il diamante Eh sì Vabbè Le enderpearl Che ci servono Abbiamo Abbiamo Tre Oggetti Preziosi Su quattro Per Per i nostri obiettivi Praticamente Ci mancano Le blazerod Quindi Io Devo Devo Farmarmi Cazzo Di Pufferfish Per No Beh Il Il Blocco Cisellato Infestato Ma Non so neanche se c'è Nello Stronghold A meno che Non si craftano I blocchi Cisellati E Sfruttando Le silverfish Li facciamo Infestare Farmiamo Farmiamo I pufferfish Sti cazzi Ma si gode Farmiamoli Va benissimo Abbiamo provato I blocchi Minerali Sì Ma questa è roba Mia No che non è Roba mia Questa È roba mia Non mi ricordo No Ok Perché ho preso solamente il diamante Giusto Il delfino Allora Quindi se io Se io Mi Farmo Una Dozzina Di Pufferfish Siamo a cavallo Praticamente Con le enderpearl Il problema adesso È trovarli Ecco Rally con silk touch Non li ho testati Il delfino Mica Se il delfino Alla blaze rod Si vola Ok Uno qui Ne ho visto un altro Ma è pieno Godo Godo Tantissimo Ma che culo È più facile così Che con Che con gli enderman Eh ok Aspetta però Che sono velenosi Guarda quanti Una farm di pufferfish Non saprei neanche Dove cominciare a farla Cioè puoi fare una farm di pesci Ma di pufferfish in sé No Non credo Sei 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 totali Se Una decina Di pufferfish Ancora Mi sarei Cioè sarei contento Forse potrei andare a dormire A metterle da parte Queste prime cose Un delfino È stato Attirato dal loot Che ho lasciato Eh furbacchione Fa vedere se hai la blaze rod Per caso Dai che oggi mi sento fortunato No Purple terracotta Mi sa anche di familiare Però potrei sbagliarmi Immaginate se La blaze rod Eh Droppasse La Cioè il blaze Droppasse la blaze rod Eh Potrebbe Potrebbe succedere Sarebbe rarissimo Ma potrebbe succedere Cioè vorrebbe dire Che tra tutte le randomizzazioni Gli ha rimesso il suo loot Nello stronghold si trovano Un botto di blocchi infestati Eh però se Cioè È questo qui in particolare È il cisellato Che droppa sta roba Quindi Presumo che gli altri Abbiano un loot diverso Il problema è che Dobbiamo anche Trovarlo Lo stronghold E cioè Il fatto Il fatto è quello Il drone Non ricordo Se l'ho mai ucciso Dai su No mi è tornato in mente Quella cosa di prima Ragazzi Il carbone Il carbone È giusto Vero L'avevamo provato Mamma mia Se i blaze Dropassero gli ender eye Sarebbe fantastico Non me ne lamenterei Il problema è Trovarli i blaze Qua ci sono un bel po' Di mob Che ci aspettano Peraltro L'avevi dimenticato Eh Io no Quanto mai Ho fatto Quella battuta Quindi i cerchi Che avevi Ieri sono passati Il cerchio Alla testa Eh In realtà Oggi Non mi sentivo Molto In forma Non lo so Eh Un po' Di Non so Se Mete Meteor Meteor Mete Meteopatia Come si chiama Non mi viene il termine C'è C'è una cosa Che di solito Quando Quando cambia il tempo Ne risenti No Una roba così Ci sono dei 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 momenti Diciamo Dove Cambia il clima E il Il tuo corpo Ne può risentire Di solito Quando arriva La primavera Molti dicono A me succede Che ti viene addosso La La sonnolenza La La Un po' Di debolezza E non lo so Oggi c'era un tempo Particolo No Meteorismo Un'altra cosa Brex Grazie ai 34 mesi E un disco musicale Purtroppo Non si può rompere Questa Vabbè Insomma È Una cosa Anche un po' Di famiglia Soffrire il cambio Di clima Non so se c'entri Però Ne ho parlato Con mia madre Mi ha detto Ma sai che Anch'io oggi Non mi sento Un po' Così così Sarà il clima Come al solito Però Vabbè Fatto sta Che Oggi Mi sentivo Un po' Balordo Che non so Se lo usate Anche voi Per definire Quando un po' Ti senti Un po' Girare la testa Che balordo Si usa anche Per altre cose Forse è slang Dialettale Clima da noi È una merda Oggi C'era C'era il cielo Nero Di nuvole Vabbè Ragazzi Io Mi farei Un ultimo giro E Mal che vada Torniamo un'altra volta Non vorrei Annoiarvi Più che altro Meteoropatia Corali Le avevo Già provati Non so se tutti Da me si usa Balordo O son sard Eh ma Dipende In che modo Vabbè Comunque Ci siamo capiti Ad esempio Mi succede Che Quando c'è Un cielo Da pioggia Magari Ha piovuto Sta per piovere Però Ci sono quelle nuvole Un po' Acchiazze E quindi Filtrano i raggi Del sole Si crea Quello strano Contrasto Nel cielo Che alcune aree È buio Alcune aree Ci sono dei forti Raggi luminosi E In generale Si crea Tipo un bagliore Tra le nuvole No? È un po' Quasi abbagliante Quando c'è Sì ha senso Per me Per me Sì Aria Le persone Quello Dicevano Oh Eccoli Bastardelli I piccoli Stronzi I maledetti I gialli Gialli Proprio Come Come la pioggia Che mai Dimenticheremo Ce n'era un altro Dove è finito Poi sono pure Velenosi Non dovrebbero Tipo essere Un po' Aggressivi Un po' Più Visibili No Quando li cerchi Ovviamente No Mia nonna Quando aveva Freddo i piedi Diceva che nevicava E così era A Francesco Povera nonna Perché non la facevate Entrare in casa Ci credo Che aveva Freddo i piedi Se la lasciavate Fuori Con la neve Dissocio Dissocio Da quello Che fate Le vostre Povere Nonne Bene Siamo a quota Dieci Tecnicamente Altri due Ci garantiscono Il portale Ma altri Quattro Probabilmente Ci parla nel culo Anche con la ricerca No Dai Ci siamo Io finirei Questa farmata Di enderpearl Delle volte Ho male al polso destro Prima che piova È una cosa comune Tra chi ha rotto un osso Anche mia mamma La stessa cosa Con il braccio Che ha rotto Pensa te Questa Non l'avevo sentita mai io Ad esempio Secondo me Secondo me Nello snapshot Di domani Mettono bug fix O novità Secondo me Secondo me Non lo so Non ci sono segnali Se non la cosa Delle squid Però avendo appena Appena messo le armature Per cani colorate È facile Che si concentrino Su fix Di quelle Migliorie Della texture Roba così Diciamo che Non lo aspetto Particolarmente Questo snapshot Mi è venuta in mente Una cosa ragazzi Mentre stiamo Farmando Non vi metterò Obiettivi sub Oggi Però Perché È rischioso Mettere obiettivi Sub In questa In questa live Però ieri Vi ho accennato Una cosa Che poi Cioè Volevo dirvi Ma mi sono scordato Ve la dico oggi Gli armadilli colorati Sono una possibilità Sì E Ascoltate Molto Molto bene Quello che Vi sto per dire Mi raccomando Intanto ho visto Un pufferfish Mi è già scappato Se ho accesso Il furbo Attiviamo Le hitbox Eccolo qua Lo stronzo Is No Questo Ok Clodoveo Grazie dei 26 mesi Cosa mi è droppato Un colorante grigio Attenzione Allora Allora Vi ho spoilerato Di recente Che è in corso La preparazione Di Una nuova modalità Sul server Della community Che è aperto A tutti La modalità Sarà per tutti Una modalità Di cui abbiamo visto La mappa Buildata Con pezzi Del server Dei sub Abbiamo visto Che ci sono Delle armi Abbiamo appreso Che non ci sono Mod Ma che sarà Vanilla Abbiamo visto Che La mappa Dall'alto Di questa modalità Sembra un'isola Piena di punti Di interesse E poi abbiamo visto Che c'è una barriera Che si stringe Che ricorda Un certo gioco Bene Per chi non l'avesse Ancora capito Cos'è questa modalità Diciamolo tutti insieme In chat Ragazzi Stiamo Preparando Stiamo cercando Di ricreare Su minecraft Sul server In modo Che possa essere Giocabile A tutti Forcraft Esattamente Un forcraft Che potremmo definire 2.0 Perché Ha un sacco di Chichette Che non c'erano Nel forcraft Dei video Senza mod Esatto E Che qui ci saranno Perché Nel server Possiamo fare Delle cose Ficche Detto questo Ne approfitto Per darvi una notizia Che poi ripeterò Più volte Per festeggiare Questa cosa Abbiamo deciso Che Nella mappa Di Forcraft Ci sarà Come in fortnite La presenza Di Qualche Statua E in particolar Modo Vogliamo Piazzare Una statua Di un personaggio Di minecraft Nel Nella mappa Un po' come la statua Dell'ama La statua Di The rock Tutte quelle robe lì Un punto di interesse Con una Mi stanno scappando le cuffie Aiuto Un punto di interesse Con una statua Di minecraft Che riprodurrà La skin Del Top Donator Di questo mese Il top Donator Di sub Del mese Di marzo Avrà Questo Particolare Onore Di avere La propria Statua Come punto di interesse All'interno Della mappa Esatto Siccome È una sorpresa Che non l'ho detto Neanche ai builder Che sono al lavoro Posso dire Che Esistono Dei tool Molto semplici Che permettono Di creare La statua Proprio Caricando la skin Si Autogenera La statua Più somigliante Possibile Quindi Si può fare Un'ottima cosa E si può fare Molto 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 Somigliante Condizioni La La skin Non deve essere Ovviamente Offensiva Non deve Violare Le regole Basilari Di cui è tu Vivere Nel senso che Se uno Fa il top Donator E poi Mi manda La skin Di Qualcosa Di Bannabile Tipo Una skin Nuda Li dico Guarda No Cambiala E basta Ok Si si a fine marzo Scopriremo Chi sarà Chiaramente E adesso Ho un dubbio Ho un dubbio Questo blocco Questo blocco Droppa L'ender pearl O O eredita O eredita No Matteo Matteo Cosa stai facendo Matteo Gli è piaciuta L'idea Non dovevo Dirla oggi Ma io sapevo Ho fatto una cazzata Dirla oggi No Ti prego Ti prego No 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 Così Questo suono No No L'ender dragon C'è l'ender dragon C'è l'ender dragon Dietro di me C'è l'ender dragon Cazzo Via Via Scappa Scappa C'è un warden C'è un warden Aiuto Ti prego Ti prego L'ender pearl Sono più importanti In questo momento Non posso neanche togliere Cazzo Di Di alert Scusatemi Se diventerete Sordi Via Scappa Scappa Mio dio Cos'è Cosa è successo Quanta roba Mamma mia Aspettate Vi tolgo Almeno Streamele Streamlabs Come cazzo Si chiama Matteo Grazie Delle 50 Sub Mamma mia Ecco La skin di Matteo Ad esempio È fattibile La skin di Matteo Ha Le sembianze Di Darth Vader O Darth Fener Che dir si voglia Ci sta Allora Matteo Ha regalato 50 sub Ha Sponato 50 Fottuti mob Ok Ok Il warden Avrà a che fare Con Con gli altri Immagino Quindi E il problema Sono due Sono due warden Ok E c'è un Ender dragon Non è sponato un altro Wither però Godo Tu chi sei Mister squalo Buonasera Un ocelot Una Musch La musch Ma è interessante Fammela killare Fammela killare Ti prego Cosa ha droppato La point è dripstone Ok Ossa E questo? Perché? Perché è a terra? Lali non posso killarlo Ah Scusate se non saluto tutti Do un benvenuto generale A tutte le 50 sub Però adesso Se interrompo Quello che sto facendo Sarebbe una follia Vorrei killare L'ocelot Mi spiace Signor ocelot Mi spiace Lo devo fare Debo farlo Comunque se a qualcun altro È piaciuta l'idea Io sono contentissimo Se vi fate la guerra Di sub È tanto di guadagnato Quindi top Va tutto a supportare Il progetto Nel caso Non fatela oggi Nel senso Fatela C'è tutto il mese Ecco Matteo Potevi anche donarle domani Tranquillamente Comunque ti ringrazio Per Avesse 50 sub Inaspettate Allora Ragazzi Bisogna Bisogna fare una cosa Qui perché Non se ne esce I blocchi Li lasciamo lì L'ender dragon Ce lo accogliamo Non se ne andrà mai I warden Dovrebbero Despunare E i warden Hanno killato Un casino Di mob Cioè Dei 50 Che erano Spunati Non oso Neanche immaginare Quanti ne siano Morti A causa Dei warden Mamma mia Io avrei anche bisogno Di un letto Dove dormire Così Quegli blocchi infestati Li spacchiamo Nel chill Allora I warden Despunano Perché Non hanno Il nome Dato che Tutti i mob Che potete Espunare Hanno un nome In modo che Non despunino E che abbiano Il vostro nome O il nome Della persona A cui avete Donato La sub No Non di qui Dai Non di qui Dove sto andando Però il warden No Perché il warden Non ha il nome Perché per qualche cazzo Di strana ragione Se tu dai un nome A un warden E lo sponi Nominato Quindi dovrebbe Rimanere Il warden Va direttamente Sottoterra Cioè spona E va giù subito Non resta Al contrario Se lo sponi Senza nome Resta Perché Non lo so Cioè Se lo sponi Senza nome Si comporta Come un normale Warden Quindi il warden Nominato Non si può fare Ricordandovi Che io Nella survival Ho un warden Nominato In cantina Quindi Non Non lo so Non capisco Neanch'io Quando ho catturato Il warden Si poteva fare Se hanno cambiato Poi Non lo so Il warden È un elfo Libero Allora Per generare La skin C'è Ripeto Ci sono Dei tool Diversi Ci sono Mod Ci sono Plugin Cose Che tu Gli dici Il nome Dell'utente O Gli carichi La skin In automatico Si autogenera La statua Non è che La costruisco Io Si autogenera Quindi C'è proprio Un tool Che pixel Per pixel Va a mettere Il blocco Più adatto E più vicino Al colore Che gli serve Quindi Viene Una cosa Molto Ficca Ok Ora ragazzi Devo tornare lì Poi vediamo Se facciamo in tempo A far tutto Perché io volevo Iniziare A Fare Delle cosette Interessanti Ovvero Dobbiamo provare A rompere Tutti i blocchi Possibili Idealmente Io partirei Dal legno Perché Con il legno Si possono fare Tutti i vari set Di legno Ora il problema Che non so Come ottenere Ogni tipologia Di legno Alcuni legni Li abbiamo ottenuti Devo ricordarmi Come ottenere Tipo la mangrovia La warped La warped Dive indicator Mi sembra Comunque Se otteniamo Il legno Possiamo fare Un pezzo Di ogni Di ogni cosa Nel set Di warped Quindi porta Trapdoor Asse Mezzo blocco Scala Fence Cioè Capito Tutto Quanto E poi Proviamo A spaccare Tutto Perché Ogni cosa Ha un loot Casuale Lo facciamo Con tutti i tipi Di legno Diventano davvero Tante cose Cioè Sarebbero Tante cose Devo provare Dovremmo anche Provare A spaccare Tutte A tutte Le foglie Credo di aver Già provato Ma non ricordo Se ho visto Tutti i tipi Di legno Non mi ricordo Ad esempio Se la zarea L'avevo fatta Credo di sì E poi Cosa potrebbe Mancarmi La foglia Di mangrove Sicuramente Non l'ho mai vista Quindi Se troviamo Un bioma Di mangrove Interessante E poi E poi Boh Forse Il resto L'ho fatto tutto Ehm Dobbiamo provare A scortecciare Tutto E rompere Tutto Scortecciato Dovre Se abbiamo Il legno Grezzo Dobbiamo Craftare Il legno Tutto Corteccia Quello Scortecciato Poi dobbiamo Fare la stessa cosa Con la pietra Il problema Che anche con la pietra Non so come Ottenere tutto Abbiamo ottenuto Molti pezzi di granito E andesite Quindi Se riusciamo A farci tutti i set Abbiamo lo stone cutter Quindi metti il granito Fai Cisellato Scala Cisellata Muretto Cioè tutto Quanto E poi rompiamo Tutto Sperando Che a un certo punto Salti fuori Quello che ci serve Perché Se è una roba strana Tipo il blocco infestato Cioè ragazzi Il blocco infestato Che è dall'enderpearl Io come cazzo Lo trovavo E si conferma anche Un mio dubbio Devo provare a fare una cosa Voglio che si rompano In automatico Niente Eh i pesci palla Andato sto blocco Meno male Perché sennò Il blocco da solo Quando mai L'avrei provato Sto qui C'è un grosso problema Nei pesci palla Cioè Nei blocchi infestati Lo volevo dire Prima delle 50 sub I blocchi infestati Non droppano L'enderpearl Droppano Il Come si chiama Il Il loot Dell'enderman Ok Il che vuol dire Che non è garantita L'enderpearl Che adesso ci sta andando Però Molto bene Credo Eh si Quindi tecnicamente Dovrò Dovrò fare cose Va bene Ne ho 11 Dovremo farmare Ancora Vabbè Qua volendo Ce n'è uno Non lo so Possiamo pensare A sto punto Di 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 Più Tempo Possibile A finire Questo farming Così che La prossima Volta Ci Concentriamo Sul resto Gli Enderai Non dropperanno Mai se stessi Eh questa Questo è un problema È vero Ne avevamo già parlato Non lo so Allora L'enderai Quando lo lanci Non ha Non ha Non ha la stessa meccanica Non ha la stessa meccanica di un blocco che si rompe Che ha una funzione unica E che poi a volte si rompe a volte cade a terra Io non so se quella cosa lì può essere modificata Esatto Le barche droppano se stesse Appunto perché hanno quella Quella particolarità unica Sono Entità Praticamente Sono entità che si autodroppano Quindi Forse Non c'è questo problema Ma c'è C'è il rischio Che esista questo problema Cos'è che mi è caduto? Attenzione Interessante Che così? Un Beehive Grazie donkey Per i sette mesi Buona live Consigli per smettere di singhiozzare Devi prenderti un forte spavento Oppure Respira A pieni polmoni Proprio E trattieni il respiro Più tempo che puoi Non mentre stai per singhiozzare Cioè Se devi singhiozzare Fai Fai il tuo singhiozzo E poi subito dopo Respira Nell'intervallo Prima che arrivi il prossimo Trattieni il respiro E ti dovrebbe passare Quando molli Il respiro Rifallo Un altro paio di volte Per sicurezza Tu pensavi di farmi la domanda A caso E io non ti rispondevo Però mi è successo di recente Che avevo avuto Il singhiozzo Non mi ricordo perché E non mi passava più Ho detto Minchia Che palle Di solito Passa Si bevi Fai Tutte ste robe E allora Provai A cercare Al volo Su internet E ho trovato Che la cosa migliore Da fare È trattenere il respiro Avevo trovato un modo Se pensi alla zucchina Ti passa A me funziona In che senso Pensi alla zucchina Che cosa vuol dire Yashi Perché dovessi pensare A una zucchina In che modo Funziona Poi Ma è singhiozzato Il live Non lo so Non penso Procedo a non respirare Esatto Esatto Poi ricordati Di respirare Ricordatevi sempre Che respirare Non è Full automatico Potete controllare Il respiro Quindi ricordatevi Di dove respirare No Non ho mai trovato La cobblestone Purtroppo Vi dico un'altra cosa Fastidiosa Noi non ci state pensando Ma se vi concentrate Se ci pensate Ora Vi renderete conto Che C'è un punto Del vostro corpo Che vi sta prudendo E ora Avete bisogno Di grattarvi E penserete No ma non è così Non è vero Non mi prude niente Sapete benissimo Che ho ragione Sapete benissimo Che ho ragione Semplicemente State State pensando Che non prude Poi così tanto Non volete darmi La soddisfazione Però in realtà Vi prude Magari non vi gratterete Ma perché Volete sopportare Il fastidio Ma è una scelta vostra Quella Però vi sto prudendo Più ci pensate E più prude Anche in altre parti Tipo a me Adesso Prude il braccio Sinistro Dai che con un po' di fortuna Sti cinque qua Ci danno soddisfazione No ti ho visto Dove sei il finito Dai fa vedere Con le hitbox Eccoti Piccolo stronzetto Vieni qui Vieni a morire Ah ma non sei tu No Non sei un pufferfish Dov'è il pufferfish Sei tu il pufferfish Ti vedo Infame Vieni qui Pallone gonfiato Mi hai rovinato la serata Avrò Prurore Fino a domani Anche tu l'hai rovinata a me In questo momento esatto Avendo letto questa cosa Avrò prurore Non è perdonabile Guarda te lo dico Io capisco tutto Li faccio anch'io Gli strafalcioni Ma avere prurore No Non si può Godo Due su tre Per ora Ottimo Tre su quattro Tre su quattro Neko Ah non sei Neko tu Sei squalo Squalo Non Non starmi in mezzo ai coglioni Se no muori Cioè Così E niente Tre su sei Quattordici Enderpearl Vi dirò Può andare bene Quattro dicender Può andare bene Andiamo Il creeper L'ho mai ucciso Ma direi proprio di sì Il cartello Di Birch Sì Fave di cacao Ok Dai il coniglio Al cane Cane Hanno detto che sei un coniglio Fifone Questo Bottoni di pietra Qua no Gli ho già visti Questi Gli ho già visti Che dire Che dire Spadina Sharpness Quattro Ma che cazzo Ho trovato È Land City Quindi non li avevo Aperti Ma scusate C'era il cartello Di Birch No Questo Questo è un loot Cos'è Un dungeon Sì Forse piramide È vero Ok Quindi il cartello Di Betulla Se riusciamo A craftarlo Ci dà il loot Della End City Clamorosa Sta cosa La Betulla Era il Creeper Devo riprovare Perché non mi ricordo Già più Ah Fava di cacao E allora che cos'era L'altro Era il Beehive E ero passato Per Il Mezzo blocco Di quarzo Il bottone Il bottone Di pietra Ok Il bottone Di pietra È Ottimo Come l'avevo Ottenuta La pietra Però Boh Eh lo so Che è partito Da una sub Era un Beehive No Ci segniamo Il bottone Di pietra È un Ottimo Aggancio Il bottone Di pietra Loot Oh Madonna Dai Che stress Ma quanti sono Che è Sta cosa Ma cos'è È una penitenza È un Qualcuno Li ha sponati Ma Che esagerazione Ma buonasera Grazie 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 Di questo Bottone Che adesso Proveremo Mister Squalo Ci sei andato Vicino Bottone di pietra Bam 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 Loot End city Cotto L'azalea No Dai Che brutto Dormo Mamma mia Comunque Che casino Che casino Allora Dobbiamo fare una bella cosa Adesso Il bottone È finito il bottone L'ho buttato L'ho usato Dov'è finito? Che ho fatto? L'ho già testato? Ma io faccio le cose Senza pensarci Ah L'azalea L'azalea Giusto Ci sono troppi eventi Cioè Capita Una cosa Ogni due Secondi Non capisco più niente Qui non c'era un accesso in avanzo No Ok Allora La Soul Sand Dove sta la Soul Sand? Eccola qui Poi mi serve L'oro No Qualcosa di meno prezioso Di vistoso Ma meno prezioso Cosa può essere? Lo Skull Guardate cosa facciamo Ci allontaniamo un pochetto dal villaggio Tipo qua Facciamo una sorta di altarino Mettiamo della luce Chest Cazzo Un hand crystal Oddio Nuxe Grazie per i 27 mesi Ehm Oddio Non Non credo di poterlo rompere lui Non posso romperlo Eh no Proviamo Ci crepo se ci provo Non credo Dovrò più qualcosa È come far esplodere la TNT Se lo rompi Ti dovrei metterlo sull'ossidiana Ora che ci penso Non so Non so dove sia l'acciarino Che avevo Dovrei poterlo comunque Croftare Controllo per sicurezza Perché volevo provare A rompere il portale Ma scusa Io non ho della selce L'ho buttata prima La selce Eh finalmente Lo so che volevate Questo test Quindi ora Facciamo Mettici questo Questo Ecco io Cioè Nel senso Ok niente Non stavo riuscendo Poi ho capito come fare E non droppa nulla Il portale Questi sono Stati droppati Dall'erba Quindi Inutile Però era Era una buona idea Cioè poteva essere Qualcosa di interessante Effettivamente Eh sì Adesso non so più Come attivarlo Però perché Non ho l'acciarino Quindi Bene E se te droppava Magari a me A me non droppa Cosa vuol dire Magari Io Che Che non ha Cioè che droppa niente Potrebbe essere La pietra Non mi ricordo Cosa la droppava Non so Eh si posso usare La lava Però vediamo Se metti un blocco Davanti ai piedi L'esplosione Non ti fa danno Ma non dovrebbe Droppare nulla Cioè è inutile Anche provarci È in cristal Produce fuoco Non ci accenderò Il portale Dai L'acciarino Lo trovo In qualche modo Appena avremo Un bisogno La ghiaia Dava la selce E no Non penso Questa che No No Matteo Dai Ma dai Ma posso Star tranquillo Un attimo Tutti in base Tutti in base Che bello Un altro Ender E la madonna Aiuto Cosa mi hai fatto fare Cosa mi tocca fare Per sopravvivere Un ghast Un altro Un altro Ender Dragon Un altro Un altro Ender Dragon Basta Basta No No la tartaruga Quanti Quanti Ender Dragon Sono usciti Ma sono ancora L'ho dovuto fare Basta Lasciatemi stare Quanti 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 sono No C'è pure il ravager Che mi segue Mamma mia Ragazzi E come ho fatto A sopravvivere Ho visto Quattro Ender Dragon Sono volato in aria Due volte Io non so Come si è sopravvissuto Tutto ciò Matteo Santo cielo Matteo Ma perché hai fatto Sta cosa Perché Certo Per quello Che ho detto prima Ha droppato Altre 50 sub Grazie mille Matteo Per le sub Un po' meno Per i mob Che ora Infestano La mia povera base Mamma mia Mi hai fatto fare La clip Della vita Però Cioè Mi hai fatto fare La clip Della vita Sono sopravvissuto A due Clatch Incredibili E vabbè Ender Dark Ascolta Va bene tutto Ma dopo che Sono sopravvissuto Agli MLG Non sarà un silverfish A farmi fuori Mi dispiace Come cazzo La salvo La base Allora La ricerca dei blocchi La facciamo domani E È nulla Eh no La salvo Eh vabbè Posso anche Non salvarla Alla base Però Ho delle cose Utili Lì Jacopo È il Wither Lo Lasciamo Lì Però In base C'era un altro Wither Mi sa Eccolo Appunto Sì ma C'erano un sacco Di mob Utilissimi Che avrei voluto Provare a killare Tipo lo sniffer C'è ancora lo sniffer Aspetta Vediamo se È il gas Ho già provato A killarlo Ma Volevo riprovare Effettivamente No Non desponano Sono tutti nominati Possono Venire uccisi Ma non desponano Sti mob Poteva andare Molto meglio La pietra Pot bardato Con Cosa Volevi scrivere Ossidia Foglie di spruce Dalle foglie di spruce C'è Le foglie di spruce Mi facciano Tenere la pietra Ah ma Il wither sta litigando Con l'enter Mamma mia Ah la pietra La ottenevo Dalle foglie di spruce Che mi davano Il pot Con propagula Questo stai dicendo Jeff Proteggi tu La base Io non l'ho segnata Sta cosa Voglio Il caccio Blueberries Ce l'ho Un cartello Beh mi so Mi sento comunque Abbastanza al sicuro Devo dire In questo momento Quindi foglie di spruce Quindi foglie di spruce Ah dalle foglie di spruce Ottengo la propagula Ok Quindi pot Con Propa Pot Propagula Pietra Pietra Nelle versus Non ci provo Neanche più A buildare Devo trovare Un modo Di fare Una versus Dove posso Buildare Questa Probabilmente Non è la più adatta La chest Sta bene Spostiamoci un po' Andiamo via Dal casino Tu so Già Cosa Troppi Pie Mi sa che Rimarrai Nomede A vita Sì Probabilmente Sì Killare i draghi Ne killerò uno Di drago Ma di sicuro Non quelli Nel mondo Ci sono Credo Forse 5-6 Wither In questo momento Va bene Che facciamo adesso Potrei cominciare A testare Un po' Di Di blocchi Però Non lo so Soglie imbarcarmi Sta cosa Dai Finiscerà Finiscerà Finirà Sul tardi Perché Perché Sempre a me Perché 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 Grazie Vax Che regala Il suo primo abbonamento Al canale Regalandoci Questo bellissimo Oglin Che non ricordo Cosa troppo Zoglin In realtà Non Oglin Ha Un corallo Ok Il leggio L'ossiliana piangente L'avevo sicuramente provata Non mi ricordo cosa fa Trap door Trap door di mangrovia Sugar cane Che non droppano niente Si l'avevo già provata Sta cosa Allora vado a farmi un po' Di blocchi Facciamo così Comunque dai Facciamo una bella cosa Mod Un bel volontario Che tiene Traccia di tutto Di tutti i loot Eh Marty So già che lo vuoi fare Dai Marty Ma come io Io Ma davvero Lo sto scherzando Tu lo vuoi fare davvero Fa Marty che è più pratica No Fa Marty perché Non c'ha nessuno voglia No ma io scherzo Non Non ci sta Sarebbe una follia Sapete cosa Più che altro Dobbiamo trovare I biomi Che Che al momento Non sappiamo dove sono Per provare Ad esempio Quelli innevati L'abbiamo già detto Tutti quelli innevati Per il ghiaccio Potrebbe essere un'idea In realtà In realtà A parte il ghiaccio Neanche altro Nella neve L'abbiamo già testata Cosa ci può servire? Le mushroom island Per il Per il Per il Il micelio Il Fango Nella Mangrovia Giungla Giungla L'abbiamo provata La lascia L'abbiamo provata Non so se vale la pena Fare tutto un viaggione Per queste cose qui Però Se ci facciamo Un viaggio della madonna Per trovare le mushroom island Solo per il micelio È un tentativo Cioè ad esempio Se io farmassi il rame Tra l'altro Il rame viene droppato Dal Quarzo O dal Dall'oro del nether Non mi ricordo Se io farm il rame Con il rame Ci sono un bel po' Di derivati Da fare Con tutti Gli stadi Di ossidazione Quelli Con la cera Quelli no Quindi Cioè tutta quella roba Sono infinite Loottable Da provare No Il ghiaccio Matteo Ma cosa mi hai combinato Il ghiaccio Ma incredibile Sta cosa Grazie Rvm Per gli undici mesi Buonasera Tutto bene Tutto a posto Non so dove io sia finito Però Non so come tornare indietro Matteo mi scrive Nella donazione Ti aiuto Giustamente E infatti Mi hai aiutato Ma gli iceberg Le avevo già incontrati Peraltro Perché lì c'è Il ghiaccio Che ci serve Anche qui Non sono tante cose Da testare Però qualcosa Cioè ci togliamo Un pensiero Stavo pensando Poi abbiamo Innevati In realtà A parte il ghiaccio Non c'è altro Che ci interessi Ci interessa Sapete che cosa I mob Quindi Dobbiamo killare Un orso polare Le volpi Che lì c'è la taiga Se troviamo Un villaggio Nella taiga Potremmo testare Un campfire Ad esempio Dovremmo Poterli trovare Gli stray Ok si è vero Non droppa Però aspetta Perché se avesse Il loot Non assicurato Come è stato Per Gli enderman Lì c'è un villaggio Peraltro Allora Con calma Questo è Packedize Cartelli di birch Ok Ghiaccio normale Tappeti blu Ah però Avete presente Volevamo farci Tutti i set di legno Va che culo Va che cazzo Di colpo di culo Bello questo Questo è un L'ulto di un villaggio Praticamente Un sacco di legno Qua testiamo Tutto il legno Di abete Eh vedete Cioè Questa roba Vale più di tutto Il ghiaccio Che potevamo testare Perché Se testiamo Tutte le cose Di abete Che possiamo Comunque craftarci Sono Sono Tanti blocchi Sono tanti Tanti blocchi Però ci serve Anche Allora Intanto Devo Vedere Questo qui Se è interessante Spacchiamo Il pack Edize Ok No L'ho già provato Questo Pietro C'è la terra Il blue eyes Vado Il villaggio Intanto Pensiamo Di testare Sto blue eyes Avevamo detto Anche che Ci servivano Per le propagule Quindi poi Possiamo piantarli Degli abeti Tanto Cioè Se pianti L'arbocello Cresce Diventa Diventa Un albero Un normale albero D'abete Ovviamente Salve Tu sarai L'ultimo test Mi dispiace Doverti Chillare Niente da fare Si è partita Una hit Incredibile Se fossimo In discoteca Staremmo tutti A ballare Ma che cazzo Ma che cos'è Ma perché Perché cazzo Di motivo Ci sono delle uova Di Di drago Aiuto Ma la cosa Ma la cosa più Inaspettata Del mondo Perché 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 poi Stanno droppando Sui tetti Che cazzo è Questa roba Verso Non ci posso Credere È vero La neve Che si scioglie Droppa I cazzo Di Le cazzo Di uova Di Ender Dragon Ma Questa è una farm Di calderoni Ma l'avevamo Già vista Mi sembra Vabbè Boh Io non so più Cosa dire Qua Possiamo Farmare Le betulle Possiamo Farmare I calderoni E ottenere Legno Di betulla In questo senso E questo Cosa faceva Vabbè Buono Cosa droppa Il drago Cioè L'uovo del drago Niente Si teletrasporta L'uovo del drago Non Credo Abbia loot Se lo colpisci Si teletrasporta Se lo fai Droppare Non è che lo rompi Lo fai droppare Appunto Quindi Per logica Dovrebbe droppare Se stesso Infatti È una di quelle cose Particolari Che non c'entrano Con Le loot Ebo Randomizzate Quindi Si Beh Bello Che ce l'abbiamo Però inutile Che casino Sto villaggio Peraltro Allora Questo qui Ah ma Mi fa Direttamente Il pot Con propagula Però È la Smussata Non è Quella normale Io volevo Quella normale Scusate ma Poi Non droppava Mica qualcosa Ma forse È la propagula Normale Da sola Che faceva Rob Non mi ricordo Niente Ah da Drop Pietroso Randomico Ah ok Ok Perché era È una Lootable Di Non sappiamo Che cosa Di forse Di un villaggio Una cesta Di un villaggio Non lo so Ok Quindi possiamo Farci la pietra Ed è con questa Che avevo fatto Le slab di pietra Infatti Ottimo Oltre a avere cibo Quindi Gli alberi di spruzzo Sono importantissimi Allora Per quanto Io mi andrò A settare Qui il loot I Sì Ciao Buonanotte Lo spawn Vorrei dormire Perché appunto Ci sono un sacco Di mostri In giro Abbiamo trovato Tantissime cose Interessanti Qui Cioè In realtà Io ci volevo Venire Per testare Il ghiaccio Nelle ceste Trovo il fango E io Prima cosa ho detto Dobbiamo andare Nella Nella La fornace No la fornace Cosa fa Niente Niente di Interessante Ho detto Dobbiamo andare A cercare La mangrovia Così Cioè le foreste Di mangrovie Così proviamo Il fango Trovate il fango Nella cazzo Di cesta Vabbè Incredibile Il pesce pagliaccio Questo è un bellissimo Cerchio che si chiude Il blue ice Candele Basta Eh però Legno di giungla Ragazzi Abbiamo un altro set di legno Qui Quindi Ci dobbiamo farmare Tutto il blue ice Che possiamo No Questo no Possiamo far crescere Il cacao Ma non serve Perché l'abbiamo già testato Più che altro Possiamo poi Testare Tutto il set di legno Allora Per la prossima volta Ricordiamoci Che testeremo Tutto il set di legno Di giungla Il set di legno Di Come si chiama Di Spruce E I derivati Della pietra Quindi abbiamo Un bel po' Di combinazioni Da provare Vuoi che non troviamo Qualcosa di interessante Almeno una roba figa La troviamo Dai Va bene Facciamo che Prendiamone altre Di candele Per sicurezza Questo no L'iron golem Non droppava niente Di che Adesso non ricordo Esattamente La propagola Possiamo farla crescere Giusto Quindi abbiamo Abbiamo Eh no Però abbiamo L'albero Di mangrovia Però Non abbiamo Il legno Di mangrovia Vabbè Va bene Va bene anche Quello Nel senso Proviamo Proviamo A fare A spaccare Tutto il legno Scortecciato Cioè Anche Questa cosa L'ho già fatta Sicuramente Però Vedete che Hanno due Drop diversi Questi qui Sicuramente Li ho già fatti Però Magari Sulla mangrovia No E ha Giusto Le radici Le radici Il fuoco Il fuoco Droppa La mangrovia Non mi ricordo Un cazzo Ragazzi Allora In tutto ciò Noi dobbiamo Tornare a casa Solo che Casa È Distantissima Mi sa Di qua Eh sì Segnirà andare Da questa parte I gatti Credo No i gatti Mi sembra Che li ho uccisi Che senso Se vuoi Ti possiamo dare Una mano Che vuol dire Il fuoco Droppava La concrete Magenta Ok Si Villager Penso Droppino Uguale Dai Di base Villager Non hanno Un drop Quindi Non penso Che A livello Di Codice Di gioco Abbiano fatto Che ogni Tipo Di villager Droppa Una cosa Diversa Campana L'abbiamo Provata Vabbè ragazzi Adesso se mi fate L'elenco Come al solito È inutile Ve l'ho detto Bisogna Bisogna Provare Un bel po' Di roba Insieme Basta Sono nella taiga Adesso se vi diamo Una volpe Proviamo a killarla Ma in realtà Ragazzi È tardissimo Io dovrei switchare Devo andare a fare Final Fantasy Voglio solo Vedere se c'è Una volpina Poi nel caso Per tornare a casa Facciamo la prossima Volta Allora Allora La prossima Volta Proviamo A Di nuovo A scortecciare Eh c'è una volpe Ok Proviamo A rompere Tutto il legno Tutte le foglie Scortecciamo Tutto Rompiamo Tutto Scortecciato I funghi Li abbiamo provati Su quello Sono sicuro Cerchiamo Di fare Tutto Droppa Gli stick Volpe rosse E bianche Non dovrebbe Cambiare Nulla Perché è Lo stesso Mob Quanto sarò distante Ancora Proviamo a passare La foresta La foresta In caso Vediamo Anche perché Non ricordo Attualmente Le coordinate Le avevo Sicuramente Scrinato A un certo Punto Ma sto andando Un po' A casaccio Ma mi sa Che ci siamo Mi sembra Di riconoscere La zona Nuovi colori Di lana Su minecraft In realtà Sarebbe una Bella rivoluzione Fare Non solo I colori Di lana Perché Andrebbe rivisto Un po' Tutto Per aggiungere Dei nuovi colori Al gioco Quindi sarebbe Lana Concrete Terracotta Glyse Terracotta I banner I simboli Sui banner I coloranti Nuovi fiori Da associare Oppure Nuovi colori Da mischiare Per produrre L'armatura Colorata Si potrebbero fare Un casino Di robe Anzi Si dovrebbero fare Un casino Di robe Diciamo A catena Provocherebbe Una serie Di aggiunte Obbligatorie Lunghissime E effettivamente Ci sono dei colori Che Sono molto Belli E non sono Rappresentati Su minecraft Ad esempio Il Cioè Tra i verdi Manca Non so come Definirlo Esattamente Però quel verdone Che tende Leggermente Al bluastro Tipo un verde Acqua scuro Manca Il lilla Ad esempio Potrebbe mancare Una tonalità Simile all'ocra Turchese Si Lindaco No Comunque Non Non so Non sono Probabilmente Dove pensavo Siamo molto più Lontani Del previsto Un bel colore Che Manca nel gioco Che tra l'altro Penso sia noto Agli sviluppatori Perché c'era stato Un tweet Di Giappa Che È Uno dei Diciamo Capi del team Java Ed è quello Che Aveva Rivoluzionato Le texture Quindi Diciamo Il direttore Artistico Non so Se Esattamente Così Il suo Titolo Però Aveva detto Ma Secondo voi Quali Quali palette Cromatiche Mancano Nel gioco Perché tu Puoi buildare Con tanti Colori Non solo Con la lana Con i derivati Però Mancano No L'appel L'ho già provata Mancano Un sacco Di colori Ad esempio Ho citato L'ocra Non c'è La lana Ocra Ma hanno messo Il mud bricks Che in qualche Modo Copre un po' Quel colore Lì Non esattamente Però E Un utente Gli ha detto Manca Qualcosa Che ci permetta Di Di costruire Con il Blu cobalto E il Blu cobalto È un bellissimo Colore C'è qualcosa Che si avvicina Però Non hai un set Di derivati E gli ha anche Mandato come esempio Tipo Una sorta D'immagine Rappresentativa Con un tetto Blu Di quella tonalità Ed era molto Bello E quel Consiglio Aveva un sacco Di like Quindi lui Aveva chiesto Appositamente Per vedere La community Cosa Volesse avere Come Come Colori Mancanti Una cosa Che manca Che ogni volta Mi dicono Eh ma c'è il Red Netherbricks Sì ma Fa cagare Non è proprio Quello Il Bordeaux Il Vero Bordeaux Come lo intendo io C'è solamente Nel fondo Della tavola Del cartografo La liana Cosa droppa Calderoni Calderoni Vuol dire Che possiamo Cos'era Il calderone Mi faceva Ottenere La betulla No Attenzione Anche questi Sono utili Io impazzerei Per un vero Set Di blocchi Bordeaux Userei Tantissimo Probabilmente Il problema Che Non C'è Hanno provato A mettere Tanti colori Rossi Però Non è mai Come dico io C'è C'è la Mangrovia Però La mangrovia Alla fine dei conti Non è molto Utilizzabile Se faccio fatica A utilizzarla O tipo C'è il Come si chiama Il Il Vinaccia Del legno Cremisi Chiaramente È diverso Anche quello Non è proprio Quello che Come dico io Difficilmente Metteranno Un set Di quel colore Però il Blu cobalto Già Ci starebbe E Un bel verde Come lo intendo io Un bel set Di legno Verde Tipo da Da palude E qua Rischio di morirci Con un carico Preziosissimo E infatti Mi sa tanto Che ragazzi Io non so dove sono In questo momento Siccome il viaggio Potrebbe durare ancora Tanto E si fa tardi Mi sa che siamo Costretti A staccare Così Come già letto Esco dalla foresta E poi basta Davvero Verde salvia Manca Verde salvia Ci sta Sono tanti Bellissimi colori Che Non sono Rappresentati Di solito Si tende a Rappresentare Le tonalità Base Solo che poi Cioè Non è che Mi metto a fare le case Con la lana rossa Chiaramente Allora Siamo in dei biomi Che Saranno sicuramente Vicini alla base Savana Deserto Mesa Però Non so esattamente Dove sono Quindi per ora Io mi fermerei qui E ragazzi Per chi va Ci vediamo domani sera Alle 20.30 Con la prossima live Per chi resta Dopo una breve pausa Andremo su Final Fantasy 7 Quindi salutiamo la Randomizer Che oggi Ci ha dato soddisfazioni La prossima puntata Mi promette molto bene E signor zombie Mi dispiace Ma non avrà le mie carni Questa sera